E' martedì 3 novembre, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolise, questa mattina in regia Marco Presutti diamo subito uno sguardo alle notizie, la procura di Campobasso ha aperto una seconda inchiesta sulle spese pazze dei gruppi consigliari di Palazzo Moffa, questa volta relative all'anno 2012. La Guardia di Finanza ha già acquisito i documenti e secondo indiscrezioni sarebbe pronto un fascicolo anche sulle spese pazze fatte dagli attuali consiglieri regionali. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Resta sotto i riflettori la vicenda legata alle spese pazze ed illegali sostenute dai gruppi consigliari di Palazzo Moffa. Dopo il rinvio a giudizio di alcuni consiglieri regionali in carica nella legislatura 2006-2011, la procura di Campobasso ha aperto una inchiesta anche per gli eletti della legislatura successiva, durata solo un anno, poiché nel mese di ottobre del 2012, il Consiglio di Stato annullò in via definitiva le elezioni regionali tenutesi il 16 e 17 ottobre 2011, ma un solo anno è bastato ad alcuni consiglieri regionali per utilizzare impropriamente ed allegramente i finanziamenti pubblici destinati ai gruppi per circa 300.000 euro, come segnalato dalla Corte dei Conti alla Procura della Repubblica di Campobasso, pranzi a gogo, offerti per accaparrare voti, torte gelato, dolci di vario genere, scontrini per il caffè offerto agli amici elettori, viaggi fuori porta, alberghi di lusso, consulenze, revisioni e manutenzioni delle macchine private, soldi erogati ai partiti per non pagare la quota mensile con il proprio stipendio e, in alcuni casi, perfino una indennità aggiuntiva di 800 euro mensili percepita abusivamente da qualche capogruppo. Insomma, c'è di tutto e di più, secondo quanto attestato dalla Corte dei Conti. In questi giorni la Guardia di Finanze di Campobasso, delegata dalla Procura, ha acquisito le carte dai rispettivi presidenti dei gruppi di allora. Subito dopo sarà la Procura di Campobasso a valutare le singole situazioni e a decidere di conseguenza. Ma non finisce qui perché, secondo indiscrezioni, sarebbe ai nastri di partenza anche una terza inchiesta relativa alla verifica delle spese sostenute dai gruppi consigliari per l'anno 2013, ovvero per i consiglieri regionali tuttora in carica. Anche in questo caso, infatti, la Corte dei Conti ha rilevato pesanti irregolarità che vanno dall'acquisto di libri. In qualche caso il libro è stato scritto dallo stesso capogruppo che ha percepito poi i finanziamenti per farsi campagna elettorale, a fatture emesse per consulenze ridicole come la collaborazione di una psicologa e a tante altre spese ritenute non rendicondabili dalla Corte dei Conti. Peraltro le irregolarità commesse nel 2013 risultano essere ancora più gravi poiché, nel frattempo, era diventato operativo il decreto Monti sui costi della politica che imponeva ed impone, anche in mancanza di regole regionali, norme più severe nell'utilizzo dei fondi pubblici erogati ai gruppi consigliari. Un'inchiesta che sta facendo rumore non solo negli ambienti istituzionali e giudiziari, quella che vede nel ruolo di indagati l'ex questore di Campobasso Giancarlo Pozzo e il suo capo di gabinetto di allora Giuliana Frattura, sorella del governatore. Su entrambi pende la richiesta di rinvio a giudizio perché, secondo l'accusa, informarono alcuni indagati delle indagini al loro carico. Ascoltiamo Giovanni Di Tota. Erano stati insieme a Martina Franca, insieme erano arrivati a Campobasso, ai piani alti di Via Tiberio, Giancarlo Pozzo alla guida della questura, Giuseppe Annicchiarico, dirigente della squadra mobile. Alti funzionari a tutela della legalità e dei diritti dei cittadini, oggi entrambi al centro di vicende giudiziarie che li vedono indagati. L'ex questore di Campobasso per rivelazioni di segreto d'ufficio, il commissario per aver arrestato due persone innocenti dopo aver manipolato gli atti dell'inchiesta. Il 28 gennaio, insieme a Pozzo, sarà davanti al giudice per le udienze preliminari, anche il suo ex capo di gabinetto, Giuliana Frattura, sorella del governatore. Entrambi dovranno difendersi dalle accuse mosse dal sostituto procuratore Nicola D'Angelo, che ha chiesto il rinvio a giudizio per l'allora questore di Campobasso e per la sua più stretta collaboratrice. La vicenda è quella relativa all'inchiesta sulle rivelazioni fatte a due poliziotti dell'ufficio immigrazione che erano sottoposti a indagini. Per Pozzo la procura chiede il processo per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio, tentato favoreggiamento e abuso d'ufficio. Per la frattura la richiesta riguarda la rivelazione di segreto d'ufficio. Il pubblico ministero ritiene, i fatti si riferiscono alla primavera dello scorso anno, che Pozzo avrebbe informato la frattura delle indagini in corso sui colleghi Vittorio Ciarlo e Francesco De Bernardo. La frattura avrebbe poi rivelato quanto stava accadendo, notizie coperte dal segreto istruttorio ai due diretti interessati. L'ex questore poi deve anche rispondere di aver promosso o comunque consentito un incontro nel suo ufficio tra De Bernardo e il capo della squadra mobile Raffaele Iasi, che da poco aveva preso il posto di annicchiarico e portava avanti le indagini. Durante questo incontro De Bernardo, secondo la tesi della procura, consapevole delle indagini in corso sul suo conto, si era lamentato del fatto che già in passato la mobile aveva indagato su di lui, che queste indagini si erano concluse con un nulla di fatto e che lui stesso aveva fatto richiesta di risarcimento danni al ministero dell'interno. In questa circostanza Pozzo, è scritto nella richiesta di rinvio a giudizio, non intervenne per evitare il condizionamento ma anzi si rese protagonista di atti idonei presidiando l'incontro nel suo ufficio, diretti in modo non equivoco a deludere o condizionare le indagini, non riuscendo però nel suo intento non avendo effetto tali iniziative su Iasi. Una nuova macchia su quella questura già al centro di polemiche e denunce nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Iorio, denunce su manipolazioni di atti giudiziari già depositate da alcuni indagati. Sarà il GUP a decidere se l'atteggiamento di Pozzo sia stato legittimo oppure no. Sul piano dell'etica il giudizio è già passato in giudicato. Un workshop gratuito dal titolo La cultura di finanzia è stato organizzato da Isabella Adinolfi, membro della Commissione Cultura al Parlamento Europeo per il Movimento 5 Stelle, in collaborazione con i pentastellati di Termoli. L'evento si svolgerà il 6 novembre alla Galleria Civica della Cittadina Adriatica e servirà a presentare le opportunità di finanziamento del progetto Europa Creativa coordinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo insieme all'Istituto Luce di Cinecittà. Il workshop è gratuito ed è rivolto a tutti gli operatori del settore culturale e audiovisivo, organizzatori della società civile, al mondo non profit, ai comuni, alle unioni di comuni, oltre che a regioni e a università, istituti di istruzione, formazione e di ricerca. Bene, era la nostra ultima notizia, passiamo adesso alla rassegna stampa. Apriamo con il giornale del Molise.it, il pezzo di apertura è a firma di Giovanni Di Tota. La procura di Campobasso ha chiesto il processo per l'ex questore Pozzo e Giuliana Frattura. Informarono gli indagati, questo è il titolo che fa il giornale del Molise. Vediamo adesso le notizie in evidenza. Un approfondimento a firma di Nicola Felice, il presidente del Comitato Santimoteo di Termoli. Molise, laboratorio o Papocchio, si chiede Felice. Campobasso, al Castello Monforte, la cerimonia per ricordare i caduti in guerra e nelle missioni militari. Sempre dal capoluogo, questa volta si parla di regione, ancora sotto inchiesta le spese dei gruppi consigliari. I fatti di Isernia. Presentato il libro sui Trentini, internati in città alla fine della Grande Guerra. Da Montenero, da Scani e Bozzelli, contro le biomasse, emissioni superiori ai limiti consentiti. San Pietro Avellana, raccolta scarsa, ma di qualità il tartufo bianco, si vende a 3.000 euro al chilo. 33enne scomparso da tre giorni. Si pensa ad un allontanamento volontario, familiari, disperati. Ci sono poi le notizie dall'Italia e dal mondo e gli approfondimenti. Questa mattina un pezzo a firma di Claudio De Luca, vigili urbani, figli spuri della regione, uniformità, mezzi e formazione professionale. E dal giornale del Molise passiamo a primo piano. Molise, l'apertura è sulle spese dei gruppi regionali. Spese pazze dei gruppi. Aperta una nuova inchiesta. La Guardia di Finanza, ancora a Palazzo Moffa, acquisita la documentazione relativa alla legislatura 2011-2013, annullata in seguito ai ricorsi elettorali. Bilanci già finiti sotto la lente della magistratura, contabile e balzati alle cronache per lo scontrino di un locale di Lep Dance. Vediamo poi a centro pagina la cronaca giudiziaria. Chiesto il processo per l'ex questore Pozzo e il suo capo di gabinetto, Di Laura Frattura, il 28 gennaio l'udienza davanti al GUP. Sempre a centro pagina, guasti sui binari e convogli fermi, Trenitalia accusa tutta colpa della regione l'affondo del direttore della divisione passeggeri. Di spalla il caso Villa Frattura, nel mirino degli inquirenti le società riconducibili al governatore e a Torsi. Da Boiano vado e torno un'altra storia infinita della nostra politica, la denuncia di Francesca Varriano. Da Isernia la cronaca vuole buttarsi giù dal viadotto, 32enne salvato in extremis dagli agenti che lo afferrano per le gambe. Notizie dall'Abruzzo e da Vasto in particolare. Ombrina Mare, anche la penna si schiera contro e deposita l'istanza al Tar. Notizie sportive, i lupi disarcionano Cappellacci. Favo in Pol per la sostituzione, l'ufficialità attesa nel corso della giornata. Calciacinque, Iserni esonerato, mister Cattaneo al suo posto. Dovrebbe essere scelto Scarpitti, Pallacanestro, Ripalimosani, Menafro e Boiano partono con un successo in promozione. Andiamo al quotidiano del Molise. Nuova inchiesta per le spese pazze, questo è il titolo di apertura. Questa volta le indagini della Procura riguardano la legislatura 2011-2012. La Guardia di Finanza si è recata nei giorni scorsi in Consiglio regionale per acquisire la documentazione. In taglio alto, ex vertici della Questura, chiesto il processo. Operazione Larus, corruzione, giovedì gli indagati dal giudice. Da Isernia minaccia di lanciarsi dal viadotto salvato dalla stradale Campomarino, esce di casa e fa perdere le sue tracce ore d'ansia per un 33enne. Da Isernia elezione il presidente della provincia, aspiranti al rush finale. Da Campobasso la commemorazione al Castello Monforte, 2 novembre, il giorno del ricordo onore ai caduti delle guerre. Politica. Rosario De Matteis, candidato sindaco di Boiano. Da Campobasso ancora vendita degli alloggi dell'ERP. La regione non risponde, passa il piano. Lo sport. Oggi l'esonero in caso di mancate dimissioni. Si parla del divorzio tra Cappellacci e il Campobasso. Per la panchina si pensa a Marco Cari. Calcio a 5, Isernia cambia mister. Via Cattaneo in Pol c'è Fausto Scarpitti. Atletica. Andrea Lalli racconta la sua gara a New York. Peccato per il finale. Vediamo come apre la gazzetta del Molise. Il Molise affonda e si vede la nostra regione che affonda in un mare che non sembra fatto proprio d'acqua. Il Molise affonda. Questa l'apertura. Il Consiglio regionale si avvede dei tagli. L'Oscar del giorno va Andrea Lalli. Il tapiro del giorno al consigliere Giuseppe Sabusco. Vediamo l'apertura di futuro. Molise per l'attualità. La provincia di Sernia ha aderito al progetto Laboratorio Moda Molise promosso dall'Associazione Euridit. Per la politica difesa dell'autonomia della regione Molise e paventata soppressione della prefettura di Isernia se ne discute oggi in Consiglio regionale. Ed era futuro Molise. Passiamo adesso alla stampa nazionale che ha titoli pressoché unanimi sullo scandalo in Vaticano e sulla battaglia tra le regioni e il Premier Renzi. Apriamo con il Corriere della Sera. Arrestati i due corvi del Vaticano. Un prelato e una consulente sotto accusa scelti dal Papa hanno tradito, trafugando documenti. Lo scandalo. La donna scarcerata perché ha collaborato. La Santa Sede valuta provvedimenti sui due libri. In uscita, in taglio alto, regioni e governo allo scontro sulle tasse. Renzi convoca i presidenti e dice ora ci divertiamo. Una fotonotizia molto bella a centropagina. Londra ritrova la nebbia e fa felici i turisti. Una giornata in bianco. Cartoline dal Tamigi. Dal Corriere della Sera andiamo a Repubblica. Arrestati i corvi del Vaticano. Il titolo di apertura. Sotto accusa Monsignor Balda e la lobbista. Ciao chi. Hanno tradito la fiducia del Papa. Divulgate carte riservate su Ior e scandali economici. Ascoltate conversazioni di Francesco. E si vedono qui a centropagina i due protagonisti. Tagli alla sanità. Battaglia tra le regioni. E Renzi, i governatori, sono a rischio. I farmaci salva vita. Il Premier invece replica troppi sprechi. Vi convoco e ci divertiamo. Questa è la sfida di Renzi. Andiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino apre anch'esso sullo scandalo. In Vaticano. Vaticano in manette un prelato e una donna svelate carte segrete. I documenti finanziari divulgati sono finiti in due libri. Le misure approvate dal Papa. Lei collabora. Viene rilasciata. Di spalla la foto. Notizia sull'attentato o il presunto attentato aereo. La compagnia dell'aereo precipitato in Egitto non è stata un'avaria. Mosca crede all'ipotesi. Attentato. A centropagina. Tagli battaglia. Regioni Renzi. L'accusa. Sopravvivenza a rischio. Il Premier convoca i presidenti. E dalla stampa andiamo proprio a vedere come apre l'avvenire stamattina il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Furto di fiducia. Divulgazione di documenti. Due arresti in Vaticano. Fermati Monsignor Lucio Angel Vallejo e Francesca Ciaughi. Ex membri della Commissione sulle strutture economiche della Santa Sede. Bagheria poi a centropagina si parla di estorsioni. Bagheria si ribella al pizzo. Alfano. Aiuti a chi denuncia dall'avvenire. Passiamo al tempo nel quotidiano romano. Abemos Corvi. Lo scoop del tempo arrestati in Vaticano per le fughe di notizie sul Santo Padre. In manette Monsignor Balda e la collaboratrice del Papa Francesca Ciaocchi. Poi in taglio alto si parla di mafia capitale. Ecco la relazione del prefetto con i 101. Nomi dopo Alemanno. C'è stata continuità di rapporti di Buzzi con la giunta Marino. Scrive il tempo. Andiamo al fatto quotidiano. Il Papa arresta le gole profonde. Ecco il libro sui furti in Vaticano. Fulmini, dice il fatto quotidiano. In carcere Monsignor Balda, rilasciata l'ex consulente Ciaocchi, ha collaborato. Le regioni a rischio i farmaci. Salva vita. Renzi replica. Ci divertiamo. Niente soldi. Chiamparino lancia l'allarme. Il Premier basta scaricare sui cittadini. E dal fatto quotidiano andiamo a vedere le aperture che fanno i quotidiani di area centrodestra. Libero i Giuda di Francesco, il Papa tradito dai suoi. Dai due corvi arrestati in Vaticano al teologo gay Ciaramsa Bergoglio. Paga alcuni passi falsi. La sua rivoluzione non produce i cambiamenti sperati, ma i soliti veleni. Sembrano tornati i giorni che portarono alle dimissioni di Ratzinger. Ombre anche sullo Iordu, ex banchieri di Dio, sono pronti a svuotare il sacco. Poi vediamo la fotonotizia di questa collaboratrice del Santo Padre. Chi è Francesca Ciaocchi? La gola profonda della Santa Sede. La papessa che sussurrava all'orecchio di Renzi. A centropagina, regioni e tecnici del Senato attaccano la manovra. Troppi tagli a rischio. I farmaci salva vita. Vediamo il giornale di Milano. Il Papa ne arresta due. Manette in Vaticano, retata contro i corvi, Monsignor Balda e la PR Ciaocchi, arrestati, accusati di aver divulgato documenti riservati alla Santa sede. Poi vediamo qui delle tre fotonotizie. Panteon rosso. Se sono eroi noi stiamo dall'altra parte. Celebrano i loro miti come fossero dei santi ma non possono riscrivere la storia. Si parla di Giulia Maria Crespi, di Pierpaolo Pasolini e di Pietro Ingrao. E dal giornale di Milano andiamo al secolo d'Italia. Terremoto in Vaticano, arrestati Monsignor Balda e Francesca Ciaocchi. Vediamo le notizie in primo piano. Festa e Guazzaloga, due ex sindaci onesti, ingiustamente accusati dai PM. Salvini, Roma e programmi. Ecco che cosa divide ancora il centrodestra. Pasolini, 40 anni dopo, processato dalla sinistra, sdoganato dalla destra. E dal secolo d'Italia. Vediamo l'apertura, del quotidiano campano il mattino. Veleni in Vaticano, due arresti, un altro prelato dell'Opus Dei e una consulente hanno divulgato dossier top secret del Papa. A centropagina invece si vede una foto di quando il calcio era ancora. Il calcio si parla di Maradona, una punizione per l'eternità. La storia e il gol impossibile contro la Juve compie 30 anni. E sulla foto di Maradona andiamo a vedere le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport. Si parla delle squadre milanesi. Inter e Milan, l'Expo continua, Mancini in vetta e Miailovic cresce. Milano torna capitale e fa grandi progetti. Nerazzurri col muro in difesa, rosso-neri con la creatività sulle ali. Ecco dove possono arrivare. Questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. E con la Gazzetta dello Sport si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.